decidere di acquistare oggi nel 2022 un iphone xr è indubbiamente una scelta fatta bene è una scelta sensata perché ci ritroveremo uno smartphone di casa apple con tutta la sua tecnologia a bordo con tutta la sua qualità l'affidabilità ad una cifra impareggiabile infatti su vari siti ad esempio su api reform o amazon lo troviamo ricondizionato su cifre che oscillano dai 350 ai 400 euro in base ai tagli di memoria anche se a volte sinceramente su amazon sono riuscito a trovarlo ricondizionato o addirittura reso quindi addirittura con la sua scatola originale i suoi accessori originali a 300 310 320 euro lascio il link in descrizione se a qualcuno può tornare utile appunto di amazon dove a volte andateci a guardare trovate qualche ricondizionato o qualche reso appunto con tutto il suo set originale di vendita a cifre che sono veramente ultra convenienti ci ritroveremo comunque un dispositivo che lo potremmo considerare quasi pari al nuovo cioè i microsegni i micro graffi che avrà saranno veramente impercettibili almeno che non siamo dei maniaci della perfezione non ha senso andare ad acquistare un oggetto nuovo e quindi pagarlo magari il doppio o a volte anche più del doppio per cosa per un gavillo per un magari un graffiettino un segnettino che rischiamo noi il giorno dopo averlo comprato nuovo di farne uno peggio magari se ci scivola semplicemente dal divano considerando appunto tutto questo acquistare oggi un ricondizionato o comunque un dispositivo usato che abbia comunque da qualcuno una garanzia non da un privato appunto senza garanzia senza sapere niente di quel telefono e senza avere un referente se abbiamo un problema lo acquistiamo ci garantisce che va tutto bene e poi magari lo portiamo a casa e il dispositivo non si accende più a chi ci appelliamo a nessuno ricondizionato o reso quindi su su app su refurb su molti siti trend device amazon che offrano questo servizio abbiamo il massimo dell'assistenza addirittura non lo sappiamo su amazon se vogliamo fare un reso clicchiamo e ce lo vengono a riprendere direttamente a casa ciao ragazzi